Oppure abbiamo visto quello che dicono in questi giorni, stamattina qualcuno ieri ha detto che dobbiamo andare a combattere l'ISIS e qualcun altro, anche altro partito, guerra fondaio, ha detto la stessa cosa, quindi queste sono cose che non esistono. La povertà, ieri per esempio Scelta Civica ha lanciato in Parlamento un progetto, povertà zero. Perché esiste ancora? Sì, esiste ancora.